Il mistero sulla scomparsa di Lenia Carrisi ha rappresentato forse l'inizio della fine della splendida storia dei suoi genitori, Albano e Romina Power. Ora la sua possibile soluzione arriva come se il destino avesse voluto chiudere i conti e regalare pace a tutti, quando i due cantanti finalmente si sono riavvicinati. Se i test del DNA daranno l'ultima conferma, si avrà la certezza che la morte di Lenia non è solo presunta, come sancito dal Tribunale di Brindisi il 1 dicembre 2014, ma sicura. E soprattutto che la figlia maggiore di Albano e Romina non si tolse la vita gettandosi nel fiume Mississippi, ma venne uccisa da un camionista al quale aveva chiesto un passaggio in autostop. Un camionista, dalla faccia gentile, che invece era uno spietato serial killer. A Kate Hunter Jesperson, soprannominato il killer dalla faccina sorridente, lo scorso anno è stato dedicato anche un film. Il suo soprannome era nato per la sua mania di disegnare un emoticon nelle freneticanti lettere di rivendicazione dei delitti. Jesperson uccise otto donne dal 1990 al 1995 e fu catturato dopo l'omicidio dell'ultima, la sua ex fidanzata. Un anno prima, nel 1994, la polizia aveva scoperto i resti di una ragazza. Il serial killer ammise che quella era stata la sua quarta vittima. Ne ricordava vagamente il nome con cui l'aveva conosciuta, Susan, lo stesso che Elenia utilizzava quando si trovava in America. La figlia di Albano era scomparsa a New Orleans il 31 dicembre 1993. La polizia incaricò uno specialista di medicina legale di ricostruire insieme all'assassino i tratti somatici della donna uccisa. Ne venne fuori questo identikit, molto somigliante al viso di Elenia. Ma ci sono voluti anni per abbinarlo al volto della ragazza italiana scomparsa. Happy Face Killer raccontò di averle dato un passaggio a tempo in Florida, in una stazione di servizio. Elenia stava girando per l'America con il suo zainetto e non aveva nessuna voglia di morire. Lui l'ha uccise poco dopo, disfacendosi del corpo. Alla fine dello scorso mese di ottobre l'ha svolta. Attraverso l'Interpol i carabinieri sono stati incaricati di prelevare il DNA ai familiari di Elenia, al padre Albano e ai suoi tre fratelli, mentre a Romina è stato prelevato a New York. I risultati si conosceranno a breve e se confermeranno che quei poveri resti appartengono alla figlia di Albano e Romina, sarà un modo per restituire finalmente la pace alla sua famiglia. E sarà una rivincita per la memoria di Elenia, non una ricca ragazza offuscata dalla droga che aveva deciso di togliersi la vita per noia, ma una giovane donna che desiderava girare il mondo, zaino in spalla, per imparare ad andare avanti senza il comodo supporto economico di una famiglia più che benestante.